Con profonda tristezza, il mondo apprende la scomparsa di Vittorio Emanuele di Savoia, il figlio di Umberto II, l'ultimo re d'Italia, e di Maria Osè. Questo iconico membro della famiglia reale italiana avrebbe compiuto 87 anni il 12 febbraio, ma il suo percorso terreno è giunto al termine il 3 febbraio 2024, a Ginevra. L'annuncio ufficiale è stato dato dalla Ireal Casa di Savoia, che ha comunicato il decesso con una nota, alle ore 7 e 5 di questa mattina, 3 febbraio 2024, su Altezza Reale Vittorio Emanuele, duca di Savoia e principe di Napoli, circondato dalla sua famiglia, si è serenamente spento in Ginevra. La perdita di Vittorio Emanuele di Savoia è stata un colpo per la famiglia reale italiana e per il popolo italiano nel suo complesso. Il suo ruolo storico e la sua figura rappresentavano un legame con un'epoca passata, segnando un capitolo importante nella storia del paese. Nato il 12 febbraio 1937, Vittorio Emanuele di Savoia ha vissuto una vita ricca di avventure, sfide e traguardi. La sua presenza nella vita pubblica è stata caratterizzata da impegno e dedizione alla sua famiglia e alla sua nazione. Il duca di Savoia e principe di Napoli ha incarnato una figura emblematica nella cultura italiana, testimone di un'epoca di trasformazioni e cambiamenti. La sua eredità rimarrà indelebile nella storia italiana e nel cuore di coloro che lo hanno conosciuto e amato. In questo momento di lutto, i nostri pensieri e le nostre preghiere sono con la famiglia reale italiana e con tutti coloro che sono stati toccati dalla sua vita e dal suo spirito. Che Vittorio Emanuele di Savoia riposi in pace, sapendo di aver lasciato un'impronta eterna nel tessuto della storia italiana. Real Video vi ringrazia per averci accompagnato fino alla fine. Per rimanere sempre aggiornati sui nostri prossimi video, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale e attivare la campanella delle notifiche. Grazie per il vostro supporto.